Con il numero 1, Samy! Con il numero 6, Shuao! Con il numero 15, Cristina! Con il numero 17, il Pinto, Chieri! Con il numero 19, Eme! Con il numero 21, Davide! Con il numero 24, Jason! Con il numero 20, Ciclo! Con il numero 18, Antonio! E con il numero 9, il capitano, Juan 1! A riflessione, Guantanamo, Chieri! Con il numero 30! Ciò che ricorda che è con la rossa...